E' il Varia 75, più conosciuto con il nome di Codice Sforza, prezioso documento conservato presso la Biblioteca Reale di Torino, rarissima testimonianza della formazione culturale ricevuta dal giovane Ludovico il Moro. Il prezioso quadernetto fu scritto a Cremona nel novembre del 1467 durante la permanenza del giovane Sforza nel castello di Santa Croce. Si tratta di una rilettura con annotazioni grammaticali, letterarie e storiche del Retorica de Renium risalente al 90 a.C., tappa obbligata nel modello di educazione rinascimentale, un'esercitazione con la quale il futuro signore di Milano avrebbe potuto mostrare alla madre Bianca Maria Sforza i suoi progressi negli studi. Il piccolo gioiello è impreziosito da numerose miniature, ritratti dei membri della famiglia Sforza, episodi storici come la battaglia di Salamina, quella delle Termopili ed altre imprese storiche. La presentazione del restauro del Codice Sforza, reso possibile grazie alla casa editrice Nova Carta di Padova, che ne ha anche realizzato un'edizione infaximile in tiratura limitata, si terrà venerdì 3 marzo a Palazzo Madama a Torino, mentre l'originale sarà ancora per qualche giorno visibile al pubblico fino al 6 marzo, in occasione della mostra Emanuele d'Azeglio, il collezionismo come passione, in corso sempre a Palazzo Madama. Analizzato e studiato in profondità, il Codice è una rara testimonianza della solida e articolata formazione culturale che riceveva un giovane principe affidata a un precettore di indiscussa fama e preparazione. E proprio a questo proposito, il restauro dell'opera ha portato a un'altra scoperta. Ci siamo imbattuti in un piccolo giallo, afferma l'editore di Nova Carta, Vittoria De Buzza Carini. Per alcuni studiosi è infatti verosimile che il precettore del piccolo Ludovico il Moro, allora quindicenne non sia stato Filelfo, ma il cremonese Giovanni Francesco Piccenardi. Una vicenda che ci ha appassionato e per la quale si sta pensando di istituire una borsa di studio per le ricerche dedicate al tema. E che potrebbe riservare, aggiungiamo noi, ancora sorprese.